Benvenuti a meteogiulianci.it. Oggi venerdì 29 giugno, bel tempo su quasi tutta l'Italia, ma con caldo in aumento per il ritorno dell'anticicolo nel nord africano. Caldo che insisterà sulla penisola una decina di giorni, con apice tra sabato e lunedì, quando verranno superati 35 gradi sul 60% circa dell'Italia e in particolare su Trentino Alto Adige, Basso Veneto, Emilia, Romagna, zone interne del centro, Puglia e Sardegna. Ma vediamo la mappa del satellite delle ore 8 di questa mattina, vedete in Italia quasi sgombra nuvole che lambiscono appena le regioni alpine. Che tempo allora farà oggi? Vedete un po' di nuvole sul Piemonte, Lombardia, le Alpi, i suonati temporali pomeridiani sulle regioni alpine. Ma andiamo a vedere le temperature, l'argomento ovviamente più interessante, temperature saranno intorno a 30-33 gradi nei valori massimi, valori di 34-36 su Emilia, Est e Lombardia e zone interne del centro. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.